racconti del mare bonus 2 la realizzazione le immagini di shutterstock le tecniche di powerpoint il software doodly in questo secondo bonus spiego come ho realizzato gli episodi dei racconti del mare dalla lavorazione delle immagini alla creazione delle scene e al loro montaggio su doodly fino ad arrivare all'episodio completo di musica e voce narrante cominciamo con le immagini la maggior parte delle immagini che ho utilizzato proviene da shutterstock le ho trovate in linea appunto una volta individuate le immagini che mi interessavano le acquistavo le scaricavo le mettevo in una cartella e poi procedevo con la lavorazione degli sfondi o dei singoli personaggi e adesso vado a fare velocemente un paio di esempi la fata dei sogni yume ho bisogno di lavorare solo lei da questa strisciata mi ritaglio il singolo personaggio che mi interessa poi vado sulla funzione formato immagine che sta qui nella barra in alto del powerpoint e da formato immagine quando clicco sopra mi si aprono tutta un'altra serie di possibilità sempre nella barra superiore a quel punto posso rimuovere lo sfondo rimuovi background e mi rimane la fata e la posso inserire in qualunque tipo di di scena che mi che mi serve che sto lavorando in quel momento la stessa cosa l'ho fatta con il delfino e con tutti gli altri personaggi questo è il tipo di lavorazione che è stato fatto per ognuno dal polpo da murasaki appunto dalla regina della luce tutti dal primo all'ultimo sono stati lavorati in questo modo il principe del mare ad esempio l'ho lavorato anche con dei riflessi in alcune immagini posso utilizzare la stessa identica funzione formato immagine effetti immagine riflesso e eccolo qui cambio idea o mi serve di fare un'altra cosa mi riserve l'immagine come era in origine torno indietro barra in alto la più in alto possibile lato sinistro freccia che va verso sinistra per tornare indietro questo è il tipo di operazione che mi serve fare voglio creare uno sfondo nuovo mi serve di creare una nuova scena mi apro una nuova slide completamente vuota voglio lavorare sull'isola copio l'isola che ho nella slide precedente e la posiziono qui voglio aggiungere le onde copio incollo copio da la precedente slide incollo sulla nuova e ce l'ho voglio far diventare quest'onda così come ce l'ho nella scena in cui il petrolio sta arrivando e rischia di inondare la colonia di coralli questa è l'operazione che devo fare clicco sull'immagine vado di nuovo su formato immagine in alto mi si aprono tutta questa serie di funzioni e vado su effetto artistico o effetti artistici e la mia onda diventa nera diventa un'onda per così dire di petrolio a volte ho avuto bisogno di trovare delle fotografie vere e proprie su internet che poi ho lavorato con la stessa identica funzione formato immagine effetti artistici qui ho voluto ad esempio utilizzare questo involucro di plastica perché secondo me dava un effetto dava l'effetto giusto dava l'effetto che io volevo ottenere questa fotografia è stata presa ugualmente da internet l'originale faccio vedere senza il tipo di lavorazione che io ho fatto è questo un po sgranata perché era un'immagine piccola che ho dovuto ingrandire con gli effetti artistici invece ripristiniamo l'effetto artistico che aveva precedentemente che è questo diventa così e infine la regina della luce che incontra la strega marina nelle profondità degli abissi lo sfondo di questa immagine al naturale è questo che è lo sfondo che accompagna tutti gli episodi dei racconti del mare lavorato con effetti artistici in questo modo cambia completamente ecco questo per quanto riguarda la lavorazione delle immagini una volta create le slide che mi interessavano con gli scenari che mi interessavano i lavorati personaggi andavo a realizzare dei jpeg dal powerpoint che stavo lavorando con questa funzione qui si clicca su file o documento in italiano si clicca su salva come siamo nella colonna di sinistra salva come mi si apre questa schermata dove ho il mio powerpoint il powerpoint che sto già lavorando e mi serve di trasformarlo in jpeg quindi apro questo menu a tendina individuo la funzione che mi serve la trasformazione quindi del powerpoint in jpeg e lo trasformo poi chiedo di salvare salva e ottengo una cartella con i jpeg che adesso andrò a mostrare ecco qui questa è la mia cartella il mio passo successivo è andare a montare su doodly il software che ho utilizzato per la realizzazione di tutti gli episodi quindi ora passo al montaggio delle scene eccolo qui allora quello che faccio ora è creare un nuovo video per far vedere come si fa la mia immagine di sfondo diciamo il mio sfondo è personalizzato perché poi vado ad inserire i miei sfondi quelli che ho appena lavorato quindi per me il colore in questo momento è assolutamente indifferente va bene verde quello che faccio è andare su scena praticamente sulla creazione della scena voglio un'immagine personalizzata con questa funzione qui e devo caricare il mio file vado ad aprire la mia cartella vado a caricare dalla mia cartella con i jpeg precedentemente lavorati lo sfondo che mi interessa e poi procedo allora iniziamo da qui ad esempio creiamo la nostra prima immagine da qui avrò probabilmente una mano che scrive come spesso faccio e quindi vado a scegliere la mano che voglio utilizzare e poi salvo il lavoro che ho fatto io adesso in questa dimostrazione lavoro tre tre diciamo tre immagini tre scene quindi aggiungo un'altra scena di nuovo carico lo sfondo che mi interessa questo ecco qui e qui ho la scritta già pronta ok voglio poi un'immagine di chiusura ne aggiungo ancora un'altra questa che è la parte finale di questo bonus ok a questo punto tutto qui non mi serve la mano quindi posso dire no e salvo una volta messe in fila tutte le scene che mi servono posso aggiungere chiaramente le scritte perché nei racconti del mare e comunque in qualunque altro video una parte scritta può essere sempre interessante voglio che questa scritta si posizioni eccola qui in un modo che secondo me è più carino da inserire in questa nuvola eccolo qua racconti del mare a questo punto posso già fare un primo controllo sul lavoro che ho realizzato fin qui ma io so già che voglio aggiungere la colonna sonora la provo per vedere quella che mi piace di più questa in realtà è la musica dei racconti del mare quindi è quella che vado ad inserire allora la musica la trascino sulla striscia sottostante alle immagini e a quel punto ho la mia colonna sonora pronta posso andare a controllare con il preview qui la scritta è già pronta è tutto pronto quindi non mi serve di aggiungere nulla l'unica cosa su cui ho lavorato è il titolo qui racconti del mare bonus 2 che va forse un po' troppo velocemente ora posso anche far vedere come aggiungo la voce a questo punto devo utilizzare il microfono il volume della voce è sempre più alto di quello della musica proprio perché non venga coperto dalla musica e parto con la registrazione della voce racconti del mare bonus 2 e in questo caso ho voluto registrare semplicemente la voce del titolo salvo come è già stato salvato tutto il lavoro precedente e rifaccio un preview per controllare che la voce sia venuta racconti del mare bonus 2 eccolo qui non sono soddisfatta della velocità con cui si muove la prima immagine il filmato passa dalla immagine numero 1 alla numero 2 vado ad aggiungere extra time alla fine un po' di tempo in più alla fine diciamo un secondo racconti del mare bonus 2 ecco qui un po' meglio ma si può continuare a migliorare in questo caso diciamo che siamo soddisfatti del lavoro fatto fin qui perché è una piccola e veloce dimostrazione ho salvato tutto il mio lavoro lo voglio esportare perché poi voglio utilizzare il mio video e caricarlo su youtube come ho fatto con tutti gli episodi esporto mi chiede in che cartella lo voglio salvare io qui lo sto salvando nella cartella dei bonus eccolo qua posso dire bonus 2 prova salvo continua questa operazione per un video di un minuto è velocissima e una volta che il rendering è terminato vado a vedere se il video è venuto come lo volevo e a quel punto il lavoro è finito questo è il lavoro tecnico che c'è dietro la realizzazione di ogni singolo episodio dei racconti del mare io mi sono divertita molto e ho imparato tante cose nuove pubblicherò dei tutorial su powerpoint, doodly e alcuni programmi gratuiti per realizzare video che si trovano in rete come CapCut il prossimo bonus tra una settimana su tecniche di narrazione e scrittura creativa a presto thanks for watching ricorda di iscriverti e attivare le notifiche per rimanere aggiornato